nasceva cento anni fa nel 1919 Jerome David Salinger che poi si firmerà G.D. Salinger nei suoi libri che non sono molti centrale nel 1961 è il giovane Holden che rimane un libro appunto al centro della narrativa americana e del mondo del Novecento ma ha scritto pochi altri libri fra cui nel 1953 parecchi anni prima nove racconti, i nove racconti che Einaudi ha fatto tradurre già anni fa a Carlo Fruttero della coppia Fruttero e Lucentini, scrittori deliziosi a quattro mani, i nove racconti mostrano un Salinger forse poco conosciuto ma fortissimo, sono racconti che hanno un taglio secco, scarno quasi da sceneggiatura cinematografica con moltissimi dialoghi, dialoghi al telefono, dialoghi a viva voce fra persone, amici, amiche, parole secche, ben scandite e poi nella quieta o nervosa musicalità dei dialoghi appare come dire con un colpo secco, appare una circostanza, una svolta o drammatica o spiazzante, sono racconti lucidi, secchi, molto belli, scopriremo un Salinger che vale la pena di conoscere accanto alla sua opera più conosciuta che è il giovane Holden, edizione in Audi, i nove racconti di G.D. Salinger.